Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video Oggi volevo farvi vedere un bug che ho scoperto Una cosa che è stranissima Sappiamo tutti che con l'aggiornamento è arrivato il catalogo Che serve per vedere che cosa hai e che cosa puoi avere di un brawler Ovvero skin, emote, graffiti Ok E sappiamo anche tutti che ovviamente Esempio Sì, tipo prendi ad esempio un corvo mecha In automatico ti danno l'emote appunto di corvo mecha Il fatto è che a me mi è capitata una cosa strana O comunque ho visto che mi è successa una cosa che non so come sia possibile Perché io se vado su Spike Come vedete c'è la skin Spike Sakura Questa skin molto rosea Floreale si può dire E sappiamo tutti che questa skin comprende anche un emote speciale Il fatto è che io questa skin non ce l'ho Perché come vedete Mi dice che posso acquistarla Ma io Se scorro qui E vado qui Mi dice Che non ho l'emote di Spike Sakura Perché prima devo sbloccare Spike Sakura Ovviamente Ma Se vado Sul brawler E vado nelle emote Io La reazione Di Spike Sakura Ce l'ho E la posso utilizzare in game E se volete la prova Guardate Vado adesso nel campo di prova Come vedete E io Ho l'emote Ma Non ho la skin Non so come sia possibile Non ne ho idea Non mi ricordo neanche come ho fatto ad ottenerla Fatto sta che Anche il negozio Mi dice Cioè il catalogo Mi dice che non ce l'ho Quando in realtà Ce l'ho E' Una cosa stranissima Però Non lo so Caso me Scrivetemi nei commenti Se anche a voi E' mai successa una cosa del genere Spero che il video vi sia piaciuto E ci vediamo Non lo so Però Sa che ci rivedremo Quando non lo so Ma ci rivedremo Ciao a tutti